È giunto il momento, è giunto il momento, 18 agosto, siamo qui pronti, eccolo qui, eccolo qui. Siamo finalmente partiti per la nostra vacanza. Si, ti capito. A Lloride Mar, dopo un anno, adesso abbiamo nuovi elevi pronti per il viaggio Gianmarco Cosi. Mai, vai Giorgio, eccolo qui. La prima, due spezzamenti che abbiamo. Giorgio, presentate un attimo. Le conoscete già tutti. Il divoratore. Il divoratore. Presentarsi da pallini. Partiremo per una settimana, due giorni di nave perché siamo voracci, vi aggiorneremo. Alla nostra Naves. Buongiorno, no, no, no. Vabbè, vabbè, vabbè. Eccoci qua ragazzi, siamo nella nave. È tutto il contrario della nave dell'anno scorso, adesso è molto meglio, molto più pulita. Però c'è stato un grande problema, ovvero che abbiamo perso un compagno in guerra. Tala, tala, slot, qua dentro. Abbiamo perso un compagno in guerra, ovvero Federico, per dei vari problemi. Non è potuto venire in vacanza. Mi piace per Federico, che non è potuto venire, però così. Vabbè, 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 vabbè. Che cazzo hai fatto partire? Vieni, tu cammini. Un po' di pura magia, hai capito? Casarecci. Siamo partiti, ragazzi. La tattica vincente. La nostra signorina. Signorina. Speriamo che. Spenderli e riprenderli. Vai, caragalla. Stiamo a fare il shampoo, sì. Esti in cura? Sì, è un po' di pura magia. Oh, no, no, no. Quanto vuoi? Oh, grida, tre volte pesi. Pese, pesi, pesi. Pese, pesi, pesi. Povoli. Tattene, davai. Sperti io. Prima di me mettendo l'aria, c'è un po' di morire. Sono sotto la pioggia. Come è la prima volta. Sperti io. Passiamo sulla venta? Sperti io. Sperti io. Per questa noccia? Per questa noccia? Non per la maiana. Molto grazie. Buon Dio. Buon Dio. Ora mi rado sul booking per la camera. Per questa noccia? Per questa noccia? Per questa noccia? È possibile? Per la tre? Per la tre? Ah, sì. Ah, tieni i tre? Per la tre? Per la tre? Per la tre? Sì, lo che hai. Su? Ah, chiedi che pari me con la luce. Eh? Pari? Pari a parlare luce. Ah, brai. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Siete capito? Il metodo per non farsi rubare a Barcellona, hai capito? Hai capito? Siamo messo 2 euro, sono vinto 30 euro. Ma da quanto stiamo dentro sto slot? Da io di sera. Vabbiamo. Mettici il telefono sotto la suola. Siamo arrivati in quel di Barcellona, ragazzi. Eccoci qua. Prima termine. Primero Panino in Barcellona. Primero. Questo è il museo della Calle? Parallel. Tutto della Calle. Ragazzi, siamo arrivati in una camera qui dall'altra parte. C'è una coppia che accetta da questa stanza. Noi siamo nella loro casa, io e Gianmarco. Adesso siamo qua e speriamo che non ci uccidano. E ci siamo separati solo da questa porta. Un cazzo. Dai, non separa la spagnola con la SS. Dai. Camadonna. Bravos. Bravo. Eccola qui. La Torre di Pisa. Ovviamente il signore del banco ci ha mostrato questo qua. 4, 5, 6. 6 peperoncini. Vuol dire che è il più piccante che ci sta. Gli altri ce l'avranno 2 e 3. Quindi questa è la massima prova. Fidatevi. La massima potenza. Fidatevi di noi. Sì, scolta. Ma che cazzo ha da portare. Gli altri di noi stanno litigando, ragazzi. Yeah. E' andato, è andato. E' andato, è andato. E' andato, è andato. E' andato. E' andato a casa a fare cosa. Ah, come è andato? Buongiorno signorina, buongiorno. E' andato. E' andato. Eccolo qui. E' l'Arcos, è l'Arcos. Lo teniamo, lo teniamo. Eccoci qui, siamo arrivati nel nostro appartamento. Devo andare a cambiare il rosino. Letto matrimoniale e qui abbiamo un divano letto. La nostra cucina. Inducimi, inducimi. Sanji, preparami qualcosa, per favore. E' andato qui. Un giù, 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 giù. Torno. Torno. No, 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 no. Eccolo, Dio. Non inguadare. Sanji ha cucinato queste grandi pietanze per noi. Prima cena a Lloré, per forza. Dare. Dare. Lloré del Mar de Noce. Ah sì, ah sì, a Las Vegas. Ah sì, a Las Vegas. E' così, prima serata a Lloré, a Lloré, a Lloré, a Lloré. Siamo al centro, molti locali, cose, casino, club. A Las Vegas. Poi c'è molta gente. Donde cazzo stamos? Siamo finiti? Siamo persi, Dennis. Quanto cazzo? Donde sta, strano vita. Due conti separati. Luca, magari lo prendi senza domenica. Vabbè, vabbè. Allora, c'è cosa? Ma fuma però, come fuma? Buonasera a tutti. Sono sicuro al 100% che ci vanno a rompere qualcosa, chissi. A noi ci manca qualcosa. A noi ci manca qualcosa. Che vi manca? A noi ci manca una macchessa. È un blu intero. Ah, sei da un ecco per questo? Sì. Cazzo di chiesa, non è buono. Ma la scena del fumo. Sì, è ladri. Ladri. Non c'è che tu vieni per le scine. È stato detto. È stato detto. È stato detto, è stato da fare. Ah, fa che? A quale punto? Ma Luca ci sono chiesto, ma ho salito Davide? Ho detto no, ma che cazzo è? Ma porco Dio, Luca. Sono salito e sono salito. Sì. Allora. No, io pure lo sentito. E voi, Lune. Ma io la mamma sta battendo a un bacio, la mamma. Quando è qua fu? No, è che fu? Non 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 è che fu? sådan. 24 ore sulla nave, mamma mia. Io viaggio, sto noggio spirituale. flashback adesso io sono arrivato a Porto d'Arrest in Sardegna il mare è mosso ancora adesso sinceramente e tipo vedevo il bollettino del mare sarà ancora più mosso quindi ragazzi io te spero di farcela però come ho detto prima non si molla un cazzo a me guarda mi puoi togliere tutto ma la vacanza la propone non mi frega niente questa cazza la faccio qua piove ma non ci frega anche adesso non ci frega, oh no cazzo cascati 2 euro oh il fucio di culo ha pilato non ci rentra oh quando io te tu ascolta perché noi dici che ce li beviamo noi ce li beviamo a casa allora che dite fratello barbello 40 milioni di euro 120 euro a sedali spegni e il tanto male che compri 125 euro non c'erano 3 serate fatte bene eliminò le discoteche teniamo contatto con 50 discoteche e ce ne stanno 10 teniamo gli italiani gli italiani gli italiani e gli italiani gli italiani ci stavano con 10 discoteche 7 sono le più zosse degli ore del mare poi ci abbiamo uno questo qua no eeeh troppi come si vedeva? ma noi ne sapevamo che ci stanno kiburini che merda nooo madonna di dio e non ce la rendremo no e che cazzo quando stiamo a decidere dove andavate che vi devo dire che vi devo dire? comunque noi siamo summer rock la gente sta è sold out 250 chiama il cazzo summer rock pronti? il cocktail è pronto eccolo a che pesce cibo? oh che giornale all'avvanzo a tutti ieri all'avvanzo a tutti ieri all'avvanzo a tutti ieri gioco 5 euro su questa domanda vieni qua davanti a me come si calcola l'area del travesimo va bene che si vuole? ma chi si vuole? non ti si vuole mi ha messo a pietà perché mi ha ricordato e allora sembra tu Luca era mio figlio ci vuole mangiare no questa è madonna sarà ricca no questa è l'opportunità ma chi è? ma chi è? fai il culo che fosse? molti mi hanno insultato dai capelli per oggi ci ho avuto solo congratulazioni sono il maestro non so se capite sono l'anima della festa baby ragazzi sono un po' umbriaco siamo nella calle perché abbiamo imparato l'espanol perché abbiamo imparato l'espanol cansato siamo andati siamo andati in londoner e siamo ubriacos e e mi sono andati mi sono andati mi sono andati e non li trovo più perché è il figlio del Zaccani è il figlio del Zaccani è il figlio del Zaccani è il Zayolo è il foglio del furo è il figlio del bosco è il figlio del bosco e TA c'ho Sto facendo tutto quello che faccio ma al contrario spero ti faccio uno due tre vetti ma al contrario stiamo nel mar di Iore sei bella ragazze come state ragazzi come sta bene la play sta molto buonita molto bella spettacolare appena fai un metro l'acqua profonda a 50 mila metri air chilling si mongoloide hanno perso la chiave e la stanno ritrovando la chiave o ritrovando il cazzo che pesce recuperato a se recuperate le chiavi oh yeah baby napoletano eccoli qua tecnica del pirata chi vi ha dato la luce il sole il sole il sole la calle sta ancora pronta vamos pronto a salpare per i mari giro tempo eccolo qui il nostro eroe che ha fatto comunque qua il comunismo regno riuscio è toccato il tombo danni la blotta quelli saremo io giovele però costa 75 euro di ocasi le chiavi parla quanti mpc guarda quanti mpc guarda che amare liberi amare no 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 non posso no standard No, sta bagnato, non sta bagnato. No, muoto serio, dammi sto cazzo di panino, farò accolta a lui. Già, ma sto malo. Che cazzo ti ha piaciuto? Che è sto bacinello? Oh, ma non siete felici di stagliore del mare? Quest'oggi siamo alla Longia, un locale veramente tipico di questa città. Votato terzo su TripAdvisor, andremo a degustare una favolosa paella con annessa sangria, aspetteremo mezz'ora e vi faremo vedere il tutto. I guerrieri stanno male, metti i tuoi occhiali che ti salevano i tuoi occhi. Sto benissimo, mamma, non preoccuparti mamma, sto benissimo, veramente. Lo teniamo Covid. Secondo anno di Pila, vacanza e Covid, vamos. E' venuto a mettere un libro in spagnolo. Ecco gli antipasti che ho preso, le tapas, che sono cinque piatti a scelta del cuoco. Andremo a assaggiare il tutto, andremo a assaggiare il tutto. Ecco la vostra paella, vamos. Ohhhh. Ma te schifo al cazzo, neanche tu. 8-2. No, 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 no. Ci facciamo un minisi con la sangria e il tennis che si scopa quelle della Bulgaria. Eeeh. Forza. Forza. Oh, come si chiama la secciorbe? Questo è il... Il fuego. Il fuego? Cristo il tantesano è un vomito. Questo è la... La torta... Da..... Deilti il cuoco! Vanosa al S gatesuntro! Ohhhhhh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.